Il clima che cambia espone anche l'Italia ad eventi estremi sempre più frequenti e potenzialmente pericolosi. Sentiamo l'opinione del professor Roberto Buizza, fisico del clima della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Se pensiamo al futuro con un clima che cambia, un clima più caldo, eventi di questo tipo possono essere sia più intensi che più frequenti. Più intensi perché con un'atmosfera più calda abbiamo più vapore d'acqua e più energia nel sistema che fa sì che il vapore d'acqua salga di più nella nube. Salendo di più abbiamo la possibilità di creare non solo gocce di acqua ma grandine e chicchi di grandine anche più grossi. L'analogia è quella della pentola sul fuoco. Se accendiamo il fuoco e lo facciamo sempre più intenso, le bolle sono più grosse, il tutto è più intenso, i fenomeni sono molto più intensi. Dagli allagamenti...